Tempo di ricominciare, sempre più vicino l'inizio del nuovo anno scolastico. Giovedì 1 ottobre 2020 a suonare saranno anche le campanelle delle scuole di Torre del Greco. Parole rassicuranti quelle della dirigente Deborah Minghelli dell'Istituto Mazza Collamarino che questa mattina ai microfoni di TV City ha illustrato le misure di sicurezza adottate per fronteggiare l'emergenza Covid-19 nelle scuole, invitando le famiglie alla massima collaborazione. Si avvicina la riapertura delle scuole. Bambini, ragazzi, docenti e dirigenti torneranno nelle aule. Come si sta preparando la scuola Giovanni Mazza? Innanzitutto molti di noi non sono mai andati via dalla scuola perché per prepararla all'apertura il lavoro è stato complicato e molto faticoso. Il personale amministrativo, i collaboratori scolastici si sono scorciati le maniche e ci hanno dato la possibilità. Stiamo allestendo gli spazi utilizzando quello che avevamo a disposizione nel senso che accoglieremo i ragazzi ancora con i nostri banchi, le nostre sedie perché non sono arrivati ancora i banchi monoposto. Nonostante questo, sfruttando tutti gli angoli della scuola, siamo riusciti a trovare una collocazione per tutti, anche se abbiamo dovuto articolare diversamente il funzionamento. La scuola secondaria lavorerà con i doppi turni, in aule molto capienti, ma di numero esiguo per accoglierli tutti contemporaneamente. Nella scuola primaria ci sarà una rotazione che coinvolgerà soltanto i bambini delle quarte e delle quinte. La scuola dell'infanzia la accoglieremo per intero, ma al momento esclusivamente in orario antimeridiano. Questa è l'aula, la presidenza in origine insomma, adesso però questa stanza verrà sfruttata per ospitare dei bambini, quindi c'è stato questo cambiamento. Ho ritenuto opportuno destinarla ai bambini, ai piccoli della scuola dell'infanzia e mi sono ritagliata un angolino da un'altra parte. Starò in segreteria, starò un po' al plesso con la Marino. L'importante era fare spazio a quanti più bambini possibile, perché le famiglie del territorio hanno bisogno di un ritorno alla normalità e la scuola doveva dare un proprio contributo anche in questo senso e quindi va bene così. Come vi state organizzando con le attrezzature, gli strumenti che negli ultimi mesi ci hanno accompagnato? Mascherine, guanti, gel? Il commissariato straordinario è molto attivo nella consegna di mascherine, solo questa mattina ne sono arrivate 12.000, quindi noi le stiamo ogni volta impacchettando per fornirle agli alunni che tutti i giorni la riceveranno a scuola, alunni e ovviamente il personale. arriva con una certa periodicità anche il materiale disinfettante. Noi comunque ci siamo organizzati con un piano B, nel senso che ci siamo procurati anche noi detergenti, sanificanti, abbiamo acquistato macchinari per la sanificazione degli ambienti. È tutto pronto. Si tratta soltanto di vedere il riscontro della prova dei fatti, insomma che cosa porterà nelle nostre scuole? Quanto è difficile secondo lei gestire bambini di ogni età? Allora i bambini hanno risorse che noi adulti non riusciamo a immaginare. I bambini non avvertono il fastidio della mascherina, i bambini sono consapevoli della necessità di sanificare le mani, forse hanno più difficoltà a stare fermi e a mantenere le distanze. Questo un pochino ci preoccupa. Ci preoccupa non avere ancora avuto indicazioni precise sulle procedure da seguire qualora a scuola verificassimo la presenza di un bambino che manifesta sintomi, non perché non sappiamo di doverli collocare in una sala che io non chiamo stanza Covid, io preferisco chiamarla sala d'attesa. È il luogo dove aspetteranno al sicuro loro e i loro compagni, i genitori che arrivano. Abbiamo chiesto un incontro all'ASL per definire un protocollo che ci consenta una comunicazione più diretta ed immediata con l'ASL per ottenere il tampone per il personale o per il bambino che dovesse manifestare dei sintomi o anche per ottenere delle indicazioni per l'individuazione degli alunni fragili. È chiaro che in questo momento di super lavoro anche per l'ASL non siamo ancora riusciti ad avere questo momento di incontro. Le famiglie sono preoccupate? Le famiglie sono preoccupate però sono anche molto consapevoli del fatto che si ha il tempo di rientrare a scuola. Io colgo l'occasione per chiedere il supporto, la collaborazione delle famiglie perché solo se lavoreremo tutti quanti insieme rispettando le regole ulteriori che ci siamo dovuti dare. Per esempio abbiamo predisposto nel cortile degli spazi per l'accoglienza degli alunni in modo che stiano distanziati, sappiano dove posizionarsi. Ma è opportuno, ripeto per fare un esempio, che i genitori lasciano presto il cortile onde evitare assembramenti. Confido nell'attenzione dei genitori e delle famiglie del territorio e sono sicura che con il loro aiuto riusciremo a mettere in acqua questa barca, diciamo così. Un augurio sincero e di serenità a tutti gli alunni di tutte le scuole cittadine, non solo di questa, perché sappiamo che è stata dura per tutti, lo sarà ancora probabilmente e speriamo che quest'anno passi in fretta.